La guarda davanti, davanti la guarda, l'acqua, 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 l'acqua. Eccola la statua del Vate, Gabriele D'Annunzio, tanto attesa quanto oggetto di polemica, ma ora è qui, in Piazza della Borsa, sulla panchina, dove tutti attorno i presenti si sono riversati per assistere alla scopertura. Diverse anche le figure politiche della città che hanno presenziato all'evento. Giorgio Rossi, tra questi, ha speso delle parole per ricordare la figura di D'Annunzio prima di togliere la coperta bandiera italiana dalla scultura opera dell'artista Alessandro Verdi. Saba, Svevo, Joyce, D'Annunzio, tutta l'Italia è piena di piazze dedicate a D'Annunzio, Viali, noi abbiamo Viale D'Annunzio, non riesco a capire queste polemiche. È storia, il Novecento è storia, dobbiamo parlare della storia di questa città e poi non ci sono nessun'altra motivazione per cui leggo queste polemiche che ritorneremo a fiume, ma lasciamo perdere lei.